Over 200 events are scheduled for the third edition of the Italian Heritage Month, il Mese del Retaggio Culturale Italiano celebrato nella provincia dell'Ontario. The Italian Heritage Month was launched at Queen's Park by Michael Tibollo, President of the National Congress of Italian Canadian, the Minister for Seniors Mario Sergio and the MPP Rosario Marchese and Peter Schurman, who supported the bill proclaimed in June Italian Heritage Month in the province of Ontario. This year's program is rich of events celebrating our Italianità. We're bringing forward things that are relevant to all of us, things that make us all unite and make us proud of who we are as a people. And I have to say that the Italian, for instance, the Canadian Italian Business and Professional Association, it moved an event to the month of June. It's, we're supporting that event, they're supporting Italian heritage. Centro Scuola Cultura Italiana, the language school, they have programs, they'll be showcasing the talent of the youth. There are three events that I'm aware of that will have between 500 and 1,500 young Canadians. Young Canadians, last year I was impressed to see groups of girls from Jamaica and Chinese learning to dance to Tarantella. This is what it's all about. This is the hope that the culture can permeate into other cultures, have them understand who we are, and at the same time, as a result of that, feel strong enough as between themselves, to feel confident enough to not feel threatened by other people. And I think that's the beauty of this country. I think that's the beauty of this province. And it's my hope that we can continue this into other jurisdictions and try to reignite that passion and that love, that amore e passione that I always talk about, even in the Italians, to make them feel proud and strong and put Italy back where it belongs as well in terms of its place in the world. The Italian flag-raising ceremony will take place here at Queen's Park on May 30th. With the announcement of today, we are getting closer to the month of June, which is the month dedicated to the Italian culture. And also on May 30th, we are celebrating the Italian flag-raising. So this is very important for the Italian community, for our culture, for our language. And we thank the provincial government for recognizing the contribution that Italians have made to the growth of our country and of our community and of our province. Therefore, the month of June is dedicated to celebrate everything that it is of Italian. La cultura, la lingua, le tradizioni italiane sono al centro di questi eventi, sono al centro del simbolo di queste celebrazioni. E devo complimentarmi anche per la qualità ed è il numero elevatissimo, sono oltre 200 eventi che vengono effettuati in un mese ed è veramente di cui credo oltre 70 soltanto in Ontario. Questo è veramente significativo e importantissimo. C'è addirittura un allargamento graduale di questo evento anche negli Stati Uniti. The Italian Heritage Month will be a great opportunity to promote our Italian Canadian talents. The National Congress of Italian Canadians and Artists Mundo presents Peppino Di Capri featuring Daniel Panetta at the Sony Center for the Performing Arts. I'm performing with Peppino Di Capri, I'm opening for him, June 1st at the Sony Center here in Toronto. It's going to be a great night, a lot of fun. He's a great performer and he's a legend and I'm honored. It's going to be fantastic. The award-winning singer-songwriter multi-instrumentalist Daniela Nardi will present Espresso Manifesto. On June 25th we will be at the Batters Shoe Museum and I'm presenting my project Espresso Manifesto as well as a wonderful singer-songwriter from Italy named Peppe Voltarelli. As well that evening we're going to have a speaker circle where we're going to have a few noted people of the Italian Canadian community discussing Italian Canadian culture and what are we doing to evolve and contribute to our community. Abbiamo organizzato questa manifestazione perché pensiamo che è importante fare il punto della situazione tra gli italiani che vivono a Toronto e la cultura a Toronto. Quindi questo nostro dibattito che si terrà il 25 giugno martedì al Batters Shoe Museum a partire dalle 6 e mezza è un incontro su la cultura a Toronto e come gli italiani sono coinvolti in questa cultura. Naturalmente molti ci hanno già detto che sono due mondi paralleli che non si incontrano ma chissà invece magari ci sono molti esempi anche di italiani che stanno partecipando all'interno del panorama culturale canadese. Quindi vogliamo fare il punto della situazione e partire da questo, magari farne un incontro annuale se sarà il caso e avere tutti gli italiani che sono interessati o che sono coinvolti qui a Toronto nella cultura canadese e vedere in che modo la nostra italianità può partecipare non soltanto a livello di business abbiamo moltissimi imprenditori, professionisti gli italiani sappiamo che sono ormai radicati qui in Canada da moltissimi anni ma vogliamo capire se c'è spazio per gli italiani e l'italianità anche all'interno della cultura canadese. Marcello Tarantino will organize the art exhibit Viva Viva Italia featuring Italian and Italian Canadian artists. Come dal principio presentiamo la Viva Vitalità exhibit che sarà composta di artisti italiani che sarebbero 5 quest'anno e 6 artisti italo-canadesi ci saranno Gianfranco Antonio, Giulio De Vicchio, Rodolfo Marma, Guido Borgianni, Gianfranco Frezzolini che sono italiani dall'Italia maggiormente sono tutti morti però sono stati grandi artisti poi da qui ci sono italo-canadesi come Sam Paonessa, Silvio Mastrodascio, lo scultore Bruno Capolongo, Giuseppe Pivetta, Tony Bianco e Lorenzo Franchetti tutti artisti che si sono ben piazzati qui nella nostra cultura italo-canadese. L'Italian Heritage Month sarà una grande opportunità di promuovere la nostra lingua, la nostra cultura, le nostre tradizioni e le nostre attività come italiano-canadiano in Ontario e in Canada. From Queen's Park, Enzo Di Mauro, italnews.ca